L'Unione di Centro entra ufficialmente in Consiglio Comunale al fianco del gruppo Cava Libra rappresentato da Giovanni Del Vecchia, Marisa Biroccino e dall'assessore Paola Moschillo. Dopo anni di assenza torna in Consiglio Comunale lo scudo crociato e il battesimo di questo ingresso lo dà proprio il segretario nazionale, l'onorevole Lorenzo Cesa. Nasce un progetto politico nuovo che si chiamerà Cava Libra Udc, abbiamo provveduto a cambiare la denominazione del nostro gruppo e finalmente anche un partito tradizionale che rappresenta una forte area moderata di centro di cui in città c'è un grosso fermento sarà rappresentato in Consiglio Comunale e potrà partecipare a pieno titolo a quella relazione di governo. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto come dicevano anche altri relatori da circa due anni perché abbiamo pensato di poter piano piano ricominciare laddove c'è stata qualche difficoltà e soprattutto a Cavati di Reni l'abbiamo iniziata anche con la scorsa campagna elettorale. Quindi siamo stati vicini a questa amministrazione e volta per volta con l'associazione e con la lista civica Cava Libra capeggiata da Giovanni Del Vecchio. Quindi abbiamo avuto sicuramente un'intesa molto forte su quelli che sono i principi del nostro partito. A sancire l'ingresso la presenza di Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, giunto a Cava dei Tirreni in occasione del convegno su formazione e turismo quali volano per l'occupazione. Presenti tanti esponenti Udc del territorio come Antonio Crescenzo, consigliere a Sarne, Pasquale Mauri, consigliere ad Angri. Presente anche Luigi Cobellis, ex capogruppo in regione Campania e Corrado Matera, attuale assessore al turismo della giunta De Luca. Questo ormai modo di presentarsi è quello civico, oggi stiamo andando contro corrente, qua rinasce un partito, anche nel Consiglio Comunale di Cava avremo il gruppo dell'Udc, questo per noi è un fatto molto importante. Facciamo questo lavoro però occupandoci anche di questioni concrete oggi. Qui a Cava parliamo soprattutto di occupazione, mettendo a punto alcune questioni che riguardano il tema del turismo, il tema della formazione, il tema della cultura. Quindi sono tutte questioni che poi portano al discorso principale, cioè quello di ricreare opportunità di lavoro soprattutto per le future generazioni. Grazie a tutti.